Stiamo insieme da un anno e non riesco a toglierti gli occhi di Doss. Ehi, Kerem, perché tutti credono che l'obiettivo finale dell'amore sia il matrimonio? Io non lo capisco. È vero. Penso che non sia necessario. Non credevo che pensassi questo del matrimonio. Quindi non ti sposerò e questo è fantastico. Inizieremo un nuovo gioco, ragazze. Riuscirò a convincere Kerem a sposarmi. Prima di tutto gli dimostrerò che la sua libertà non sarà mai limitata. Del te? Ho preparato qualcosa per voi. Non si comporta affatto da Asley. È posseduta o qualcosa del genere, magari. Forse vuole sposarsi e sta facendo di tutto per convincermi. Ci serve una coppia infelice per il nostro prossimo piano, signori. Kerem, Kerem! Voglio chiedere il divorzio. Devo prendere un bambino in prestito. È pure circonciso. Che io non voglia sposarmi va anche bene, ma che lui non voglia sposare me non va proprio bene. Chi è quello? Non lo so. Era innamorato di Asley. Benvenuti. Niente più giochi. Che motivo avrei di fare dei giochi con te, Kerem? Anello nuziale in arrivo. Uno sietemanyい. Vertrapposito. Be Thanh. Molina. Ilmi troppo. Ficare電à. TIA. Di foto. Già. Chi. Grazie a tutti.